Salve! Fai l'ignoranza? Fai l'ignoranza? Fai l'ignoranza? Eh? Eh? Oh! Che vuoi? Stavo ascoltando il disco nuovo di un giro! Il buon sorriso! Era una bomba! No, e... E mi volevo confessare! Sì, e mi culo non te lo fai pigiare! Eh? Eh? No, nulla! Nulla, nulla! Senta, volevo fare la confessione, appunto! Ma, muoviti! Va avanti! Che c'è? Io... 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 Ti muovi! Che vuoi? No, via, via! Non ce la fai! No, via! Non ce la fai! Non ce la fai! No, no! Te lo dici! Te lo dici! No, ora te lo dici! Ora te lo dici! Ora te lo dici! Oh, ora te lo dici! Oh, ora te lo dici! Dimelo! No, ma... Forza! E tanto lo so come va a finire! Poi... Lei lo va a dir a giro! No, è un po', so via! E poi te lo dico! Poi te lo dico! Poi tu lo va a raccontare a tutti! Eh! Io! 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 Io lo va a raccontare! Mmm... Mmm... Non lo so! Mmm... Guarda, non lo so! No, ora te lo dici! Su! Ma lo voglio sapere! No, ora lo voglio sapere! Voglio sapere! Ma... Non c'è il segreto della confessione? Sì! Bah! La confessione! Ho detto che gli hai segretto il politico! La politica! Il voto gli hai segretto! Mi ha la confessione! O chi te la dici? Mi scherava! Allora l'altra sera il padre, eh! Come mai lo sapevano tutti che me l'ho lasciato la Barberini? Eh! Come mai? Come mai? Certo! Certo! C'erano i pacanti! I pacanti! Non voleva sapere! Ma che ragazzo lo vedo stanco! Lo vedo un pochino! Io ho detto! Ma certo! Cosa? Si è lasciato! Li ha rincornavo! Io lo so perché! Ok! Comunque guardi! Io ho bisogno che glielo dica! Via! Io... Ma mi frega nulla! Mi dici nulla! Ora! Ora te lo puoi dire! Ora! Ora tu mi dici nulla! Mi le frega una sera! Mi le frega una sera! Mi le frega una sera! Fa una cosa! Darti una pelle offerta nell'acqua santiera! Allora ci posso mettere... C'ho 5 euro! Vai! Sì! 5 euro! 5! Lascia 5 brecchini! 5! 5 euro! Ma tu ci lasci un centino! Che ci fa con 5 euro? E dove vuoi? Mi le frega una sera! 5 euro! Almeno un centino! Se tu manda in palladizio non lo devi lasciare! Sì! 100 euro! E tu mi fai anche la ricevuta allora! Ricevuta? Sì! Ma la bevuta che fai io! Mi fai la bevuta! Vieni! Ti porto di venuta! Allora padre! Che fai? Ma soldi? Dipende! Dipende da cosa? Lascia o raddoppia? Allora lei ha 3 buste! La 1, la 2 o la 3! Quale busta scegliereste? La 3! La 3! La 3! Perde tutto! Oh! No! Allora stai attenzione! Fermo! Si metta attenzione! Allora! Adesso lei davanti a sé ha anche una strada con 3 palle! Con queste 3 palle! Una palla rossa, una bianca e una verde! Quale 3 palle scegliereste? Quale palla? La rossa! Allora lei scamberebbe il suo pacco o il pacco di un altro diverso? Lo scamberebbe il pacco? Il vento? Sì! Sì! No! No! Via! Perché mi fai cambiare il pacco? Gli abbia 100 mila euro! Gli ha perso un niente rossa! Via! No! Puttana! No! Non lo di! Non lo di! No! Scusi! Un saluto! Saluti tutti a casa! Eh! 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 Vabbè! Io comunque volevo ringraziare tutti da casa! Comunque è stata un'esperienza! Mi ha insegnato molto! E... Prego l'uscita! L'uscita da quella parte! Di là! Grazie! 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 Grazie!